Solo per citare gli esempi di recinti, a Roma, Top Cruise ha girato un rischio di Possible 7 e Lady Gaga e vende il biscotto sul Dei Tunucci. Il Romanic Night Adventure della Sirenetta sarà ambientato sulle spiagge della Sardegna, la Santa Teresa di Gallura. Intanto, Harrison Ford va in Sicilia, che è stata preferita alla Grecia come set. Le riprese di Indiana Jones 5 dovrebbero iniziare l'estate e il film uscirà nel luglio 2022. Indiana Jones è una studiosa delle antiche civiltà e in Sicilia troverà siti archeologici carichi di storia e luoghi di grande bellezza.